Buon inizio di settimana, io sono Loredana e sono qui su Notizie Non Click per la giornata di oggi, lunedì 18 settembre, per leggere insieme a voi alcuni titoli di articoli che abbiamo pubblicato e che andremo a pubblicarne ancora di nuovi nel corso della giornata. Quindi se vi va, rimanete con noi. Copa dei Viste e gli Azzurri sono alle Finals di Malaga Formula 1, un gran premio di Singapore senza vince davanti a Norris ed Hamilton. Scossa di terramotto di magnitudo 4,8 tra la Toscana e l'Emilia Romagna. Esterosomalia Grandis nasce il Fondo per la Pace dove l'Italia è la pipista. Trekking autunnali per Dolomiti Paganella, i percorsi imperdibili e i consigli della guida alpina per grandi e piccini di nuovo estero. Con killer Jong-un ha la di Vostok in regalo dei droni esplosivi. Ambiente la rigenerazione degli ambienti marini. E per il terzo settore, i diritti dell'Emilia Romagna accoglie il 9% dei minori stranieri. Questo e molto altro potete trovare nel nostro portale di informazioni. Io vi ringrazio per essere stati con noi e vi do appuntamento alla prossima mini rassegna Loredana. Grazie a tutti.